buongiorno mamma di whatsapp allora io sono la mamma di samuele ah la mamma di samuele signor vostro figlio è il dinosauro di mio figlio è una foto cucchiare e una foto portava stelle ma che fatto? lo soggetto è il figlio vostro figlio signor comunque prima cosa so cosa la creatura è venuta a mettere a mezzo e poi non c'è questi dinosauro ma che vuoi creare? che tengo il zoo a casa mia ah questo è la mamma che è il creatore che ha perso il dinosauro io ho guardato buono in due zainette ero figlio mio e in due zainette c'è solo una signa e un propottomo ma poi scusate vorremmo parlare di venerdì che qualcuno ha messo un giubbettino un giubbettino o un giubbettino ha messo un giubbettino scusatemi allora piano piano ha messo un giubbettino vecchio per uno nuovo esatto ha messo un giubbettino o un giubbettino un giubbad January un giubbadon un giubbettino un giocachio un giibbettino va be mamma ero ognuno ha un pensiero benvenca il mondo è bello perchè ha variato Grazie per la visione!